Vorrei come di consueto aprire la sessione del Q&A con una domanda per rompere il ghiaccio e chiedere a Putipon da dove viene questa storia così complessa, così ricca di riferimenti tanto all'attualità contestuale quanto magari anche al cinema. Grazie a tutti, Putipon, ho chiesto la prima domanda, che è un film che è un film molto ricco, molto misterioso e hai tantissime referenze a qualcosa che sta succedendo in Thailand, ma anche a cinema e una grande immaginazione in questo film. Potremmo raccontare un po' di più? Prima di rispondere, posso dare un grande ringrazio al mio produttore? M. Philip, il mio amico produttore, è Chachai Chayun e Chakawan in Tamron. Grazie, è una inspirazione? Prima di rispondere, lasciate che ringrazi di tutto cuore il mio produttore che è stato fondamentale per il film. Questa Giulia tutto il grande ringrazio di rispondere, un video di rispondere alla domanda. Ok, forgo. Ok, la prima domanda del rispondere, ho fatto una domanda che consegla di rispondere ad un'identità. Sì, e vorrei dire che sono interessato in questo tipo di topic e quando ho iniziato a scrivere il tratamento per il mentore a quel momento era il titolo di departure il mentore che ho parlato durante il periodo di film e sì Prima di aver cominciato il progetto del film avevo già sviluppato un progetto video che si occupava di identità e identità è un argomento che mi interessa moltissimo e quindi l'ho sviluppato in questo film ed è ritornato quando ho cominciato a girare Manta Ray And I start writing not from the story I find the location for the film first and all the story came out later I try to find the location that is the borderline between Thailand and Myanmar and you know that place is I don't know, there is a Andaman Sea that kind of border between Thailand and Myanmar and I issue the natural borderline because it clearly sees the border and we see how we divide the country Devo dire che prima non ho cominciato con la storia ho cominciato con la location prima di cominciare a scrivere la sceneggiatura del film ho trovato il posto dove volevo girare ed è, e la storia è venuta dopo il posto si trova esattamente al confine tra la Thailandia e il Myanmar è un luogo strano perché lì davvero ci rendiamo conto di come noi dividiamo il mondo Il mondo in questo momento in qualche parte di Thailand l'au%, l'auesti della Thailand a l'auesti di essere later on at the time 2009 there is one news a really big news and I was shocked like a 300 Rohingya people came to the shore of Thailand and the Thai authority it just pushed them away and 300 just disappeared La zona è nella parte meridionale della Thailandia. Nel 2009, quando il progetto è cominciato, c'è stato un episodio di 300 Rohingya che sono sbarcate in Thailandia e sono spariti, sono stati fatti sparire. Io non sapevo niente di questo problema, è lì che ho cominciato a interessarmi alla loro storia. E' lì appunto, ho cominciato a seguire la storia di Rohingya, ho cominciato a seguire i telegiornali, a seguire le news. Ho letto una ricerca che era stata fatta da uno studioso mio amico e ci tengo a sottolineare però che io non sono un paladino di diritti umani, io non sono uno di quelli che combatte, io sono un artista e credo che questo si possa fare con l'arte. Ok, ci sono già domande da parte del pubblico? Sì, qui in prima fila, prego. Sì, Catero Masù, una domanda per il regista. Volevo capire come avete lavorato sulle musiche. Le musiche sono un pochino più di un commento mi pare in questo film, in alcuni casi ci sono delle liriche, delle canzoni che sembrano scritte probabilmente proprio per questo film e che più che commentare continuano un po' il racconto nel testo, almeno da quello che abbiamo visto dai sottotitoli. Quindi come avete lavorato su questo aspetto e se è il significato proprio di questo tipo di commento musicale. Grazie. Questa è una domanda che magari rivolgiamo anche ai compositori. The question is about the soundtrack of the movie. He says in some parts of the movie there are musics or songs, lyric songs and music that do not seem to be there by chance, that they seem to continue the story told by the images. Can you tell us something? How did you work at the music project? And the same question is for the two authors of the music. Okay. For the music and sound, you know, my process of working, I just pass the image, I mean the cutting to my composer and yeah, a lot of good ideas just came out from them, two of them. And I just said in the first that I just want, I love the sound of bassy, kind of low frequency and make my heart is like a beating. Ok, pass the microphone to my mic. Il regista dice, per la musica prima sviluppo le immagini e poi in fase di taglio e di montaggio collaboro con gli autori delle musiche con cui discutiamo e sviluppiamo. Una cosa ci tengo a dire, mi piacciono e uso molto le basse frequenze che sembrano quasi un battito di un cuore, riprendono la frequenza del battito cardiaco. Il regista dice, per la musica prima, il regista dice, per la musica prima, il regista dice, per la musica prima, è parte della storia. Maybe we didn't decide it together but it came in our both very spontaneous composition, it's very personal to us. We tried to record mostly with images and in the end we found out that the music was like some kind of four characters. For example, the scene, the beautiful scene in the bass, in the nature, first we thought it's so beautiful, it's so beautiful, we didn't want to touch it. It's like a jewel, but in fact we found out the music can follow and also, yes, continue the story and also be a link to the following story. Dice, non è stata una cosa decisa in anticipo, ma è venuta fuori spontaneamente, è una cosa che riguarda il nostro modo di essere. Abbiamo registrato vedendo le immagini del film e alla fine si può dire che la musica fosse diventata un personaggio aggiuntivo nel film. Ad esempio nella scena del bagno in mezzo alla natura, la scena era bellissima, all'inizio non volevamo aggiungere niente, volevamo lasciarla senza musica. Poi però invece abbiamo capito che la musica può continuare la storia, può dire di più, è come un collegamento tra quello che sta succedendo in quel momento e quello che accadrà dopo. Voglio aggiungere nulla l'altro compositore? Voglio aggiungere nulla l'altro compositore della musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Si dice all'inizio non è stato facile perché il regista ha scelto di adottare una colonna sonora diversa da quella a cui avevamo pensato noi perché il suo orecchio è diverso e quindi all'inizio non è stato poi così facile. Sì, una domanda, purtroppo ne possiamo prendere una sola, mi spiace, lì in fondo è la prima che ha alzato la mano. Hello, I think I get what the story is about, it's about shifting identities, the person with no story came into his life and somehow he had stolen his life eventually, but my question is about the story with gemstones and how it's the part of the story, how it's another line of that because I'm sorry to sound a little stupid, I don't get it at all. La signora dice, credo di aver seguito la storia abbastanza bene sul scambio di identità questa persona che non ha identità entra nella storia e gli ruba la vita alla fine, no? è quello che succede. La mia domanda riguarda le pietre preziose che, devo dire, sono rimaste per me un punto oscuro, se ci può dire qualcosa di più. The gemstone, the brinchi, the shining stone and the man with the gun with the electricity light, it wasn't in the original script and you know, it's very separate, you're thinking that's correct because I just make that story, I think it's just a few days before the shooting, I just want to make the social light and just walk around in the forest, that is no story at all, sometimes I like the kind of abstract because of the abstract that you make you think to the movie in a different way. Is it kind of visual decoration for the movie? Well, you know, I like the feeling of the organic, the forest is so organic and I don't know, sometimes when you have some artificial light in Washington, I mean, in West to the place and make the place to be another different meaning. Yes, I just feel that. It's not just a decoration of the scene, but I just feel it's difficult to explain by what it is. Dice, è un po' difficile da spiegare, non c'è una storia speciale dietro alle pietre preziose, in realtà sono parte di queste fonti di luce artificiale come le lampadine che sbrilluccicano e trasformano la foresta che è un ambiente del tutto naturale, le cambiano natura, quindi non ho una spiegazione speciale. Le ho inserite un paio di giorni prima di cominciare a girare nella storia perché volevo appunto questo elemento di artificiosità nella scena della natura. Ok, prendiamo veramente un'ultima domanda, se ce la facciamo, prego. Thank you for your beautiful film. My question is about the voices, the Rohingya voices you list at the end. And I wondered if you could tell us a little bit more about how you integrated those into the film. La domanda riguarda le voci di Rohingya che si sentono nelle ultima scena. Ci può dire qualcosa in più su come ha pensato di integrare questo elemento nella storia del film? You know, in the beginning, I don't know the story of Mandarin is going to be, but I'm sure I want to make the last part as a kind of symphony of the harmony, harmony of the Rohingya voice. And those voices have to be the real voice. And I just want to keep those voices to my film. All'inizio della storia di Manta Ray, non sapevo come la storia si sarebbe evoluta, ma una cosa volevo per certo, volevo che le voci di Rohingya entrassero a far parte della storia. E questa specie di sinfonia di voci che c'è alla fine sono le loro voci originali e ci tenevo che facessero parte del mio film. Sì, abbiamo sfortunatamente terminato il tempo a disposizione per il Q&A. Mi spiace per Resmi, One Love e Apisit, che comunque ringrazio moltissimo di essere stati con noi. Ovviamente grazie mille a Putipon Arunpeng per il magnifico film e grazie a voi per essere stati qui con noi per il Q&A e anche a Susanna per la traduzione. Grazie mille. Grazie anche l'altro produttore che non l'ha ringraziato prima. Grazie mille. Grazie mille.